Siamo a Cosenza in via Gronchi ed oggi vi presentiamo una nuova abitazione recentemente finemente ristrutturata e mai abitata. La stessa è inserita in un elegante contesto residenziale con ampia corte recintata dotata di doppio ingresso con cancelli automatici. Arrivati al secondo piano troviamo la nostra abitazione. Venite con me. Ad accoglierci un ampio salone con cucina a vista dotato di tre punti luce con uscita su terrazzi e balconi. Un elegante portellegno arricchita con bugnature e finiture oro ci invita nella zona notte, totalmente rivestita in parchemassello dal colore caldo ed intenso, creando un comprasso armonioso e somicuoso. Tre camere da letto matrimoniali, due bagni e una lavanderia compongono questa intera zona. Un'attenzione particolare nella ristrutturazione è stata riservata alla progettazione del bagno padronale. La scelta è stata effettuata su tre rivestimenti differenti che armonizzano l'intero ambiente, con la particolarità del piano sospeso rivestito in grassa effetto marmo, su cui poggiano i due lavabbi ingraziositi da una rubinetteria di design. In ultimo una vasca idromassaggio per consentire relax e benessere in casa. Grazie 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 Grazie